e questo gruppo organizzava anche le comparse del Schauspielhaus, del grande meraviglioso teatro di Zurigo e lì per guadagnare un po' di soldi da comparsa sono entrato in contatto con il vero, per la prima volta nel vero teatro e lì ho visto questi grandi attori che io ammiravo, e poi a un certo punto Horowitz è andato come sorintendente al teatro di Monaco e prendeva quasi tutti questi attori con lui, allora ho detto che faccio a Zurigo, vado a Monaco come loro e volevo anche continuare gli studi all'università, però, e poi adesso c'è anche, io allora ho chiamato il caso per caso ho fatto questo, per caso cercando una stanza nella loggio per il semestre e poi sono passato dall'accademia, la famosa Falkenberg Schule di Monaco e ho chiesto così e loro stranamente mi hanno per caso anche preso, così dovevo decidere o università o in questa accademia, io mi sono deciso a fare l'accademia di teatro e lì ho cominciato molto presto, ho fatto piccole parti, poi dopo un anno ho già fatto il primo film 0815, era un film sulla guerra, la rivolta del soldato Ash, e facevo una piccola parte di due cose, due giorni e però è un successo, questa piccola parte, insomma mi è riuscita e poi dopo mi hanno offerto altri film c'è due anni, c'è due anni dopo l'apademia, c'è la rivolta Ziochmack, grande regista diciamo per noi, americano mi volevo conoscere, ecco, e così è nato poi il primo film importante, questo Natsen der Dolfikum, come si chiamava? Ordine in segreto del III Reich, in italiano e questa è la scintilla, un po' di più Nell'ambito della retrospettiva del Festival di Locarno, concentrata sul cinema è un po' di più